Il Ministro per lo Sviluppo, Federica Guidi, ha sostenuto che le bonifiche sarebbe meglio andassero abolite o quantomeno l'abolizione non comporterebbe disastri per il Paese, anzi un notevole risparmio. La risposta dell'Ambi qual è? È una risposta che costituisce un invito. Confondere i consorsi di bonifica con le comunità montane significa non conoscere in qualche modo che i consorsi di bonifica, proprio nell'ambito della spending review, sono dei soggetti che non pesano sulle casse dello Stato perché sia nella gestione che nelle attività realizziamo le nostre attività, le nostre spese di gestione con le risorse provenienti dai nostri contribuenti, quelli che hanno un beneficio dall'attività dei consorsi. L'invito che faccio, anche tramite voi al Ministro Guidi, è quello di rivolgersi ad esempio in Emilia-Romagna ai cittadini emiliano-romagnole, ai sindaci dell'Emilia-Romagna, alla Regione Emilia-Romagna dove la bonifica è protagonista vera, attiva nella difesa del suono, dopodiché sono convinto che se in buona fede rivedrà la sua posizione, probabilmente appunto ritenendo di aver fatto una gaffa. Ma perché secondo lei Presidente pesa su alcuni strati anche della popolazione, al di là dell'intervento del Ministro Guidi, questa idea del consorcio inutile? Ma guardi, probabilmente per un nome antico, che è quello della bonifica, si pensa che la bonifica sia stata fatta e realizzata nel ventennio e poi ha esaurito il suo compito. La bonifica nasce qualche secolo prima, i territori si modificano continuamente, i cambiamenti climatici, la edificazione dei territori, la realizzazione di aree abitative, di aree industriali, la realizzazione di opere infrastrutturali impongono una continua e costante manutenzione del territorio. Gli unici soggetti che fanno manutenzione ordinaria di questo territorio sono proprio i consorsi di bonifica. Una popolazione che non approfondisce, direi metropolitana, è giustificata nel farlo e noi abbiamo il dovere di comunicare le nostre attività. Rispetto a delle sontuose, appunto, sbandate come quella che lei ha citato prima, invece ho la sensazione che ci siano anche dei cattivi consiglieri e una cattivissima rappresentanza. Intanto la sussidiarietà è prevista dal titolo quinto della Costituzione e i consorsi di bonifica sono il perfetto esempio di questo concetto. La Regione Emilia-Romagna, tra l'altro con la nuova legge di riordino, attribuendo nuove funzioni ai consorsi di bonifica anche in colline e montagna, ha perfettamente interpretato, secondo me, quello che è il principio della sussidiarietà. Chi ancora lo deve capire, visto quello che è stato detto ieri a porta a porta dalla ministra Guidi, tra l'altro di Modena, lo devono capire alcune personalità anche molto importanti, in questo caso un ministro della Repubblica, che essendo di Modena dovrebbe ben sapere che l'alluvione è stata risolta dal consorzio di bonifica della Burana che attraverso i propri canali ha portato via tutta l'acqua che è uscita dal secchia, cioè opere di interesse privato, i canali di bonifica, che portano via l'acqua di interesse pubblico che era nel secchia gestito dall'Aipo, gestito dai servizi tecnici di bacino. A me sorprende che un ministro della Repubblica, abitante a Modena, per esempio, non sappia di queste cose, per cui forse ha studiato poco la materia e ritengo che debba studiare un po' di più, per cui io credo che è sufficiente che la signora ministra prenda la legge dell'Emilia Romagna, non dovrebbe essere molto difficile. Il principio di sussidiarietà è un principio al quale ci dovremmo sempre di più appellare, perché venendo meno molta della forza che ha avuto lo Stato in passato, viste le condizioni economiche del sistema pubblico, dovremmo sempre più appellarci agli interventi di soggetti privati che svolgono anche funzioni pubbliche. I consorzi di bonifica sono soggetti a gestione privata che però svolgono pubbliche funzioni, quindi un perfetto esempio di sussidiarietà che tra l'altro viene dall'inizio del secolo del Novecento. Per cui credo che, voglio dire, io sono anche rimasto molto sorpreso ieri sera che non si conoscano queste questioni elementari che sono anche alla base della nostra giurisprudenza. Mi auguro veramente che si facciano delle riflessioni diverse e che si vada per quella strada che è proprio del coinvolgere sempre di più le parti sociali, gli interessi di soggetti sociali e economici che sono sul territorio, quali sono i consorzi di bonifica attraverso anche i loro consorziati e i loro operatori per svolgere quelle funzioni che ormai lo Stato non è più in grado di fare. Grazie. 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 Grazie.